Quello della rete è un mondo che, se esplorato con i giusti strumenti, può apparire davvero utile e meraviglioso. Purtroppo però è anche pieno di trappole nelle quali incappano soprattutto i più giovani che rischiano di trovarsi in situazioni dalle quali è complicato uscire anche per una sorta di retticenza nel farsi aiutare. Prendiamo ad esempio il fenomeno del cyberbullismo, cresciuto a risvisura dal lockdown della pandemia in poi. Da qui la necessità di mettere in guardia i ragazzi e di dar vita ad iniziative e di sensibilizzazioni come quella del Safe for Internet Day 2024 che nella giornata di ieri si è sviluppata con un incontro nazionale cuori connessi al quale si sono collegati studenti da tutta Italia, 225 mila solo in Abruzzo e anche altri incontri sul territorio come ci spiega il comandante della Polizia Postale Abruzzo, Elisabetta Narciso. In particolare in Abruzzo anche la Polizia Postale è stata con questi studenti, ha parlato loro di quelli che sono i rischi delle nuove tecnologie e si è collegata insieme a loro per seguire la diretta streaming. In Abruzzo che realtà stiamo vivendo? In Abruzzo stiamo vivendo una realtà in linea con quella che esiste, si evidenzia sull'intero territorio nazionale. Sicuramente un incremento dei casi che colpiscono i minori, che possa essere il cyberbullismo, l'adescamento online, la pedopornografia minorile appunto, è in leggera crescita. È in leggera crescita dalla pandemia, momento in cui tutti i ragazzi hanno avuto il loro primo smartphone in un'età molto più che si è abbassata mano a mano e quindi diciamo che i pericoli sono un po' aumentati. C'è anche da sottolineare in qualche modo la reticenza da parte dei ragazzi per paura o quant'altro di fare denunce, però la vostra presenza nelle scuole in qualche modo, ci raccontava prima, ha aiutato anche molti a farsi avanti? Sì, assolutamente sì. I ragazzi naturalmente vivono le loro prime esperienze sessuali nel momento dell'adolescenza e preadolescenza e questo li pone non in divario ma li fa allontanare da quella che è la generazione dei propri genitori. Quindi per loro è difficile raccontare qualcosa che è potuto accadere. Molto spesso ci capita che nelle scuole, a margine del nostro intervento, dei ragazzi si avvicinano per il semplice fatto di raccontarci qualcosa che a loro è accaduto, si crea quella situazione di empatia che li porterà poi magari a venire da noi a chiedere anche solo un consiglio per come comportarsi.